Buonasera Il buono dei bambini Io portavo per le cose Segui qua Dai Vieni Vieni Il buono dei bambini Giova è stupendo Sto fitto sono senza ho salito qui bene a piedi mi sono stancato è un muro e allora siete tutte qui? andiamo facciamo la conta aiuto muro come ti cambi? Antonio come? Antonio ah incesto questo dimmelo qua se basso l'uomo che non ti sento Antonio ah capito come ti cambi? io lo faccio Gabriel tu come ti cambi? io lo faccio Gaglia ecco qua e anche questo mi tampenta l'orecchio come ti cambi tu? Gaglia 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 ah sei buono ti ho sognato questa volta ti ho sognato e ti mangiato tutte le albucche e frotte di papà come ti cambi tu? Alessia Alessia ah tu sei poi ne parliamo con te anche una cosa di confeso tu? come ti chiami? Gaglia eh bravo Gaglia tu signorino come ti chiami? Gaglia Gaglia Sara mii che brutta voce che c'è Sara Sara allora questo quanto sei vecchia? e io lo faccio questo lo so e lo so e allora e allora bambini allora quest'anno ho messo un po' di soldi da parte per voi e vi ho portato tanti regali regali meravigliosi e allora aspettate bambini perché io sento offenza ma nessuno gli chiede se vuole un bicchetto no 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 non voglio niente voglio un bicchetto di vino no no voglio solamente un po' di silenzio gli adulti allora no no perché questa volta se la vuoi insiste il circuito il circuito questa 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 cassetta gliela diamo prima di tutto al bambino più bravo e più buono di questa casa a Davide ecco a Davide ti ha portato un panino vieni andiamo qua questo momento stasera con l'angiova canciova canciova silenzio bambino penso glielo diamo un bambino che indossa gli occhiali avanti ora ecco a te avvicinate che ciao ah aiaiaiaiaiaiaiaiaiea a due a due a fuori insiste non c'è non c'è lo questo qua ce lo diamo a lei ecco come si dice grazie no ma va bene che come la mette io non so di arrabbia io non so di arrabbia questo glielo diamo a Alessia bambini buoni silenzio per favore questo glielo diamo a lei ecco qua questo glielo diamo a lei 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 ai ai hai strappato quella casa cosana è finito tutto cotone la nonna pasqualina lo sa fare 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 victoria Gli attivano a me chi ha i soldi? chi ha i soldi? sicuro? anche tu? come? come? ho la buona ho la buona casa prendiamo che ci sono una bambina più brava cosa fai Befana? che fai? qualche cosa nella casa glielo puoi dare un po' guarda vuoi dare un po' guarda 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 come ti sembra? lei bambini mi date qualcuno qualcosa della cosa qualcosa della cosa un ciugheria ciascuno 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 un po' guarda ce naming che sta ciascuno gio Basta! Basta! Basta. E' più in biflà! E' più un giocatore! Così sono! Lasciate la cioccolata! Vai. Gli copi. E' più un grande giocatore! I ho già… Vai, c'è una volta! Scusa! e questa è la notte ora un attimo sono sono un sangue 15 anni alle piedi alle piedi come alle piedi e come la mette ma no mi pare che Sara si può mettere al lato dai grandi perché già sei uscita fuori e va vinci il DFG un attimo la prima cazzetta la prima cazzetta che prendo non mi guardate perché per te non ce n'è non è vecchio per Sara chi è Sara? non mi pare un bene solo per i ragazzini anche per i vecchi no? e poi ne parliamo dopo allora Gabriele che è? chi è il bambino buono? dì e la bambina di questa casa ecco qua il bambino che falla troppo chi è qua? Gabriele Antonio ecco qua ho portato una calzetta bella per una bambina che mi è simpatica chi è Selena? eccola qua a te te l'ho portata ecco chi è gialla? eccola qua aspetta tu sei guardato il sogno e la bocca e i pinocchi eccola qua eccola qua mi ho portato per le cose bambini ma mi sono andata vedi che cosa? vedi che cosa? andamò esci daci come ti sarà te? a me è in acqua? 28? 28? vedi che cosa? stavo detto con la nombola alessia oppola che riso eh ma scusate ha preparato un euro ma ha preparato un euro che non è un euro ma lo avete visto il carbone è nessuno vero perciò non serviva per farpalina no cademmo questo moderato non scrivete anche ok ved Powers c'è l'ain motorcycle ecco adesso ecco sì ecco ecco went e ora bambini ve la fate una cosa ve la fate una cosa ve la fate una cosa ricordo con me dai perché devi tutti accanto a me tutti accanto bambini bambini buoni quest'anno sono state a voi ecco vicino i suoi occhiali adesso davide mettiti guarda guardate qua guardate qua un'altra daviduccia sorridi a mamma faccia ancora ancora me l'hai fatta dai dai fuori ok se lo facciamo un applauso alla bambana grazie bambini ora io per andarmene via devo saltare il lapinetto una foto una foto una foto una foto un'applauso alla bambana ragazzi essendo che voi siete contenti che io sono minutoli essendo che siete contenti un'applauso alla bambana mi devo mettere la benzina nella scopa volante la benzina ora però cosa vuoi fare minuto le cipi gioretta dai mesurità un'applauso alla bambana quella voglia di aver fatto dai fermi 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 ferma la foto è stata fatta stacca gli figli e poi le foto grazie grazie